Buongiorno cari amiche telespettatrici e cari amici telespettatori ben ritrovati al nostro consueto appuntamento mattutino con i giornali in edicola la nostra rassegna stampa. Oggi mercoledì 16 novembre 2022 scopriamo insieme le principali notizie pubblicate sui quotidiani nazionali. Sono due i focus fondamentali della data odierna, si parla dei missili sulla Polonia, due vittime al confine con l'Ucraina, la Nato in allerta e sui quotidiani si leggono tutte le reazioni. E poi il tema dei migranti, il decreto, c'è la stretta sulle ONG. Quindi entriamo nel vivo della nostra rassegna stampa leggendo come di consueto la prima pagina del Corriere della Sera che titola proprio sui missili e morti allarme in Polonia. La guerra e il premier convoca il comitato di sicurezza a Varsavia. Decine di bombe russe in un giorno su Kiev e Leopoli. Milioni di case senza luce. Due vittime al confine con l'Ucraina. Mosca noi non centriamo. Gli USA difenderemo ogni centimetro della Nato. E poi nell'editoriale di Danilo Taino si legge sempre più isolato. Si parla di Vladimir Putin, non è andato al G20 di Bali. Si è però fatto sentire con l'unica voce che pare gli sia rimasta un barrage di almeno 90 missili sull'Ucraina. E poi ovviamente il resto dell'editoriale all'interno della pagina. Poi si parla appunto degli Stati Uniti, l'emergenza, i contatti con l'Europa e poi gli scenari, il rischio che il conflitto si allarghi. Gas, Biden, Meloni, aiuteremo l'Italia. Il colloquio del G20 di un'ora Bali, un'alleanza solida. E poi nell'intervista sui migranti dal Corriere della Sera alle penne ingiuste. Le accuse a Roma di Stefano Montefiori, le accuse francesi all'Italia sono profondamente ingiuste, dice Marine Le Pen. E poi presidenziali del 2024, Trump e il discorso dell'annuncio. Massimo Gaggi scrive il discorso di Trump e le presidenziali del 2024, le manovre dei repubblicani dopo il midterm. E poi appunto si legge appunto nelle fotonotizie a centro pagina il cratere lasciato dal missile caduto in Polonia e in basso nella seconda foto l'esposione vista da lontano. Missili sulla Polonia al confine con l'Ucraina, colpito un villaggio, due i morti. Varsavia convoca il comitato di sicurezza Mosca, non sono nostri. Il Pentagono difenderemo ogni centimetro della Nato. E allora andiamo avanti, leggiamo come di consueto la prima pagina della Repubblica. Missili sulla Polonia, shock in Europa. Vediamo nella fotonotizia il punto dell'impatto di uno dei due missili caduti in Polonia che hanno causato la morte di due persone. Oggi il summit di emergenza Nato e Varsavia mette in allerta l'esercito. Caduti appunto in Polonia, in un paese al confine con l'Ucraina, uccidono due persone. Mosca, provocazione, non sono i nostri. E poi l'ipotesi, un Cruis russo o un S-300 della contraerea ucraina, telefonata intanto tra il presidente USA e il polacco Duda. Due missili sono caduti in territorio polacco a pochi chilometri dal confine con l'Ucraina, causando due morti. La tensione internazionale è subito schizzata ai livelli altissimi per il sospetto che i missili siano russi, ma il Cremlino nega. Il commento di Gianluca Di Feo è in bilico sull'abisso. I missili che sono caduti in Polonia concretizzano l'incubo che da mesi alleggia nelle cancellerie occidentali. L'escalation del conflitto è il rischio che la guerra travalichi i confini dell'Ucraina. I due ordigni piombati sul minuscolo villaggio polacco, così vicino alla frontiera, ad avere condiviso per secoli la sua storia con quella ucraina, sono in grado di giustificare formalmente la mobilitazione dell'Alleanza Atlantica in base all'articolo 5. È il principio fondante della Nato, quello che impone la difesa collettiva di ogni membro per proteggersi l'un l'altro contro qualsiasi attacco esterno. È stato invocato una sola volta davanti alle macerie delle Torri Gemelle all'indomani dell'11 settembre del 2001. Andiamo avanti, si legge del G20, Biden a Meloni, mi fido di te, ma tieni a bada i tuoi alleati. E poi il retroscena, la Premier chiede aiuto sul gas. Tommaso Ciri, ecco, scrive le 22 in punto, Giorgia Meloni si presenta a cena, è sollevata, fuma una sigaretta, chiede vino italiano, orrore. È finito. L'analisi di Carmelo Lopapa scrive Banco di Prova per la leadership. Chissà se anche dopo i missili planati ieri in territorio polacco Silvio Berlusconi definirà l'amico Vladimir Putin uomo di pace. E andiamo avanti nella lettura dei nostri quotidiani. La stampa apre la notizia sulle schegge di guerra sulla Polonia con una fotonotizia emblematica. La contraerea ucraina fa esplodere un razzo russo colpita una fattoria, due morti. Nato in allerta, Mosca, provocazione occidentale. Stefano Stefanini scrive Putin scherza col fuoco. Chi scherza con il fuoco si brucia nel caso della Russia, rischia di bruciare anche il resto del mondo. Poi, Ilario Lombardo, gas, patto Meloni-Biden. Se non ci aiutate con il gas l'Italia rischia la crisi sociale. Meloni a Bali in pressing su Biden. E poi, perché la pace è finita? Lucio Caracciolo, scrive, l'idea di Europa ha perso. Ha perso perché nega la storia e ne è dunque negata. È anti-storia. E poi si parla dei pagamenti scherrate. Ne sono a multe e reati cancellati in merito al governo. Grazie agli evasori in arrivo il condono tombale. Alessandro Barbera scrive non faremo condoni. Noi la chiamiamo tregua fiscale. Così Maurizio Leo, vice al Tesoro, ma nei fatti ministro delle finanze. La parte nota del provvedimento del governo è sulla rottamazione delle cartelle esattoriali. Quella più importante, fin qui ignota, è un colpo di spugna sui reati di natura tributaria, civili e penali. Colpo di spugna da 100 miliardi nel dossier di Luigi Grassia e Luca Monticelli. I crediti non riscossi dal fisco superano i mille miliardi di euro. Con il colpo di spugna si sancirà una tregua con i contribuenti. E poi parla il sottosegretario di Fratelli d'Italia. Letta, si dimetta, gemmato. Non sono Novax, ma l'obbligo è stato dannoso. Niccolò Caratelli, scrive, Marcello gemmato è stupefatto non di quello che ha detto lui in tv, ma delle polemiche strumentali che sono state costruite su parole decontestualizzate. Il sottosegretario alla salute ha messo in dubbio che la vaccinazione anti-covid abbia evitato un numero maggiore di morti a causa del virus. Non ci sono le prove. E poi la scienza, salute, libertà, la destra sbaglia. Antonella Viola scrive, la libertà è una cosa seria e importante, non scherziamo, e dovrebbe essere il valore che accomuna noi europei. E allora andiamo avanti nella lettura dei nostri quotidiani, come di consueto con la lettura della prima pagina di Avvenire, il giornale della Conferenza Episcopale Italiana, che titola la notizia di apertura sui missili sulla Polonia. Colpi alla frontiera, due morti, accusi a Mosca che nega. In precedenza Zelensky aveva aperto il dialogo, dettando dieci condizioni. La Russia ha risposto bombardando le città ucraine, gli USA pronti a difendere il territorio nato. L'attacco russo più massiccio, ha obiettivi civili, 7 milioni di case senza elettricità. Meloni intanto vede Biden a Bali e prosegue il sostegno a Kiev. Nell'editoriale di Marco Tarquino si scrive, via da questo folle confine, le armi tradiscono tutti e sempre. E poi fotonotizia a centropagina, si parla di femminicidi, nasce la casa degli orfani a Torino, sono 2000 assistenza e interventi. Viviana D'Aloiso scrive, trovare aiuto subito dal giorno dopo in cui mamma è stata uccisa da papà, ma anche due, tre, cinque anni dopo, quando si è realizzato qualche successo, si fatica a superare il trauma, si è vorrebbe provare a ricostruire una vita e il passato lo impedisce. Trovare aiuto come orfani di femminicidio, ma anche come famiglie affidatarie, psicologi, legali, da oggi si può fare al centro SOS di Torino, il primo in Italia. Tema migrazione, la linea dura contro le ONG, possibile, confisca delle navi, oggi piante dosi va alle camere, incertezza sul nuovo decreto flussi. E allora, continuiamo con la lettura, con la prima pagina del sole 24 ore che apre sull'inflazione, USA frena, Wall Street corre, dividendi record più 7% nel terzo trimestre, nei mercati, borse in rialzo sui dati di ottobre dei prezzi della produzione negli Stati Uniti che confermano la frenata dell'inflazione. Questo ha innescato gli aumenti dei listini europei, Milano più 0,41% e di Wall Street più 1,45% il Nasdaq. In calo lo spread, BTP, Bund sotto la soglia dei 200 punti, si rafforza l'euro sul dollaro, oro ai massimi da agosto. Secondo un'analisi Janus Anderson, nel terzo trimestre nel mondo le società hanno distribuito 416 miliardi di dividendi, pari a più 7% sul 2021. E poi, contratti. A dicembre, busta paga triplicata per l'85% dei dipendenti della pubblica amministrazione. Due settimane fa è arrivata la firma definitiva del contratto della sanità. Il decreto aiuti 4 ha sbloccato quello della scuola e oggi è l'ultimo, è il turno dell'accordo finale per gli enti locali. Risultato per 2,2 milioni di dipendenti della pubblica amministrazione. L'85% di quelli coperti dai contratti nazionali, dicembre mese della tredicesima, vedrà l'accredito degli aumenti e soprattutto degli arretrati maturati dal 2019. Per un dipendente comunale con stipendio da 1.719 euro l'ordi sono in arrivo quasi 5.100 euro. Leggiamo la prima pagina del resto del Carlino. Missili russi sulla Polonia, due morti al confine con l'Ucraina, colpito per la prima volta un territorio della NATO. Il Pentagono difenderemo ogni nostro centimetro. Mosca nega e contrattacca. L'ipotesi sono i resti di razzi abbattuti da Kiev. Zelensky schiaffo al G20. E poi ancora leggiamo l'asse Meloni-Biden insieme per l'Ucraina, lungo colloquio al vertice dei leader di Bali. Andiamo avanti con l'eco di Bergamo. Apre su minorenni stranieri soli, le strutture scoppiano. In Bergamasca la situazione è complessa, il comune riapre. L'ex ossello e poi in carcere l'università per i detenuti si riscattano. È importante traguardo dell'Università di Bergamo nell'ambito della terza missione. L'Ateneo ha avviato un polo universitario penitenziario rafforzando la collaborazione con la casa circondariale di Bergamo con l'obiettivo di assicurare una serie di servizi ai detenuti iscritti all'Ateneo. Un'iniziativa che valorizza il ruolo della Unibg come soggetto attento ai bisogni del territorio, commenta il Rettore Cavalieri. Andiamo avanti. La provincia di Sondrio, le fiamme tra i rifiuti, fumo e paura a Cedrasco. Momenti di apprensione ieri a Cedrasco nel centro rifiuti di Secam hanno preso fuoco quelli ingombranti, forse a causa di qualche sostanza contenuta in uno di essi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Sondrio e Morbegno che hanno lavorato per ore. Si è alzata un'alta colonna di fumo, nessuno si è fatto male. Olimpiadi, c'è lo Sky Stadium e si svela il progetto Trippi Bormius, lo studio di fattibilità tangenziale. Moretti convoca tutti, si presenterà così l'arrivo delle gare olimpiche. Lo vediamo nella fotonotizia sulla prima pagina. E allora andiamo avanti con la lettura della provincia di, della prima pagina della provincia di Lecco. Luci sulla città, il ritorno, battere il record 2021 nella prima fotonotizia a centro pagina. ritorna l'iniziativa degli amici di Lecco per accendere case e palazzi del centro di Lecco. Le parole del presidente dell'associazione Antonio Peccati. Quest'anno Como ha fatto altre scelte. Vorrà dire che supereremo i 180 mila visitatori. E poi maratona di Teleton, obiettivo 5 milioni. A presentare il ricco calendario di eventi che si svolgeranno fino a gennaio. Circa 70 appuntamenti già calendarizzati, grazie a un lavoro che non conosce, sosta da gennaio a dicembre, è stata Anna Screpis di LTM. Poi ciclabile verso Abadia si parte, ecco come sarà a tempi certi in questi giorni, l'ok alla progettazione a palto nel 2023. E allora continuiamo leggendo la provincia di Como. Incidenti sulla Napoleona 1 ogni due settimane. Da sempre definita come una delle strade più pericolose della città, soprattutto quando piove. In media ogni due settimane dal primo gennaio 2015 a oggi si è verificato un incidente ed è partito l'Ital per collocare l'autovelox. Variante regina chiusa da venerdì per 48 ore. L'ultima parola aspetta il prefetto Andrea Polichetti e al tavolo di coordinamento sulla variante convocato per oggi. Dalla comunicazione appare chiaro che la regina chiuderà nuovamente al traffico per 48 ore a partire da venerdì sera. E poi Como le scuole a rischio penalizzata. La periferia tra le ipotesi di chiusura ci sono Ponte Chiasso, Albate e Civiglio. E ora diamo uno sguardo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Ore di paura in Europa. Titola così la notizia di apertura sulla prima pagina. Missili sul territorio polacco ai confini con l'Ucraina. Due i morti. La Nato in allerta. Mosca. Armi non nostre. Zelensky. Escalation significativa. E poi il reportage. Il futuro del mondo deciso in un Egitto senza presente Francesca Borri. O ancora la sua boccetta di vetro era il 2011 ed eravamo al Cairo. Ala Abdel Fata torse il tappo e mi disse l'area di piazza Tahir, l'area della libertà. Poi mi disse va lasciata così aperta ma probabilmente già morto. Ha iniziato lo sciopero della fame il 5 aprile e dal 6 novembre rifiuta anche l'acqua. E poi il ministro avverte acciaierie d'Italia. No ai ricatti. Urso. Nessuno ha avvisato dello stop all'indotto. Taranto. Convocato per domani a Roma. Il tavolo con il presidente Emiliano e i sindacati. E poi andiamo avanti. Diamo una lettura anche all'edicola del sud. Boom di morte e incidenti a Bari. Ecco le 6 strade killer. La sicurezza. Secondo lo studio dell'ACI in un anno si sono verificati 3.000 scontri con ben 48 vittime. Nel 2021 sulle strade del barese si sono verificati oltre 3.000 incidenti stradali in cui hanno perso la vita quasi 50 persone. Nel 2020 gli incidenti erano stati circa 2.500. Un dato legato alla ripresa delle attività dopo il lockdown ma che mette in allerta i conducenti. Poi il piano per Natale. Videocamere. 100 vigili in campo. E poi si parla di cronaca. I due assassini arrestati dopo 17 anni. Omicidio mercante. Continuiamo nella lettura dei nostri quotidiani. Leggendo la prima pagina del messaggero. Si parla ancora dei missili sulla Polonia con la Nato in allerta. eppure naturalmente Meloni Biden asse sui migranti. Summit al G23 il premier e il presidente americano. Alleanza solida con Washington. Pressing italiano sugli USA e la Turchia per frenare gli sbarchi. Va risolto il nodo della Libia. E poi fisco. aiuto per chi non è riuscito a pagare nel 2022. Mossa anticrisi per i ritardatari. Tasse versate a rate e senza interessi. E quindi poi andiamo avanti. Leggiamo il mattino che apre la notizia di apertura con la Polonia. colpita. Allerta Nato. Missili su un villaggio vicino al confine con l'Ucraina. Due vittime. Mosca. Non sono i nostri. La tesi. I resti di un razzo abbattuto da Kiev. Il Pentagono. Difenderemo i territori dell'alleanza. E poi doppio decreto migranti. C'è la stretta sulle ONG. E la Francia espelle 44 profughi. L'immigrazione va gestita in ambito europeo. Si deve passare da un sistema come quello attuale basato su partenze irregolari a un sistema con ingressi sicuri e regolati. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi illustra la strategia del governo sul fronte immigrazione. Due mosse. Un decreto per regolare l'attività delle navi ONG con multe, sequestro e confisca delle imbarcazioni che non avranno svolto vere e proprie operazioni di salvataggio. E poi un decreto flussi per i migranti regolari. Intanto la Francia espelle 44 profughi. E poi blizzi in campagna. Stragi pianificate dai neonazisti. Quattro arresti. La cellula progettava attentati contro una caserma e un centro commerciale. Poi guerra. Cina e fronte libico al G20. Lasse Meloni-Biden. E poi leggiamo anche l'analisi di Paolo Balduzzi. La politica dei bonus per l'allarme demografico. Forse non c'è nulla che metta d'accordo economisti, demografi, intellettuali, giornalisti e politici come la necessità di agire contro l'allarme demografico. Negli ultimi anni si sono infatti moltiplicati libri, appelli, interviste e conveni sull'argomento. L'Italia è un paese che invecchia. Questo non significa soltanto che vivremo più a lungo, il che è una buona notizia, ma anche che ci saranno sempre meno lavoratori, a produrre beni e servizi e a finanziare le prestazioni dello Stato sociale. Prima, tra tutte, pensioni e sanità. E poi la riflessione di Enrico Del Colle. Il Sud disunito al tavolo dell'autonomia del Nord. E poi andiamo avanti. Leggiamo il quotidiano del Sud. L'altra voce dell'Italia, diretto da Roberto Napoletano, che apre con il gioco a tempo dello Spacca Italia. Mine e credibilità internazionale. L'equilibrio di finanza pubblica del duo Meloni-Giorgetti e il passaporto che la destra al governo non può perdere. L'unica attenuante possibile è quella che, avendo riempito di no la Lega sulla manovra, si è deciso di lasciare giocare Calderoli sull'autonomia differenziata. Appena chiuso il capitolo di una legge di bilancio prudente e sostenibile, si dovrà fargli capire che non si gioca con la spesa storica e l'istruzione dei nostri ragazzi. Perché non solo vanno per aria i conti pubblici, ma si spezzano i legami fondanti della Repubblica. Autonomia differenziata e caos migranti sono incompatibili con le ambizioni legittime di un Paese che rivendica il ruolo di fondatore e che intende svolgerlo da capofila nella costruzione della nuova Europa e nel ridisegno dell'ordine mondiale. Consigliamo vivamente al duo Meloni-Giorgetti di disinnescare appena possibile queste mine perché convincerci e sopravvivere al governo è impossibile. Autonomia Calderoli, forza la mano, l'aggiunta coesione, una foglia di fico, scrive Claudio Marincola, convocata la Stato-Regioni, imbarazzo dei meloniani. Poi ora in mezzogiorno deve alzare la voce, Pietro Massimo Busetta scrive protervia o arroganza, quasi disprezzo la presentazione della bozza del disegno di legge contenente le disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata da parte del ministro Calderoli sa di apertura di ostilità. G20 contro la minaccia nucleare, la Russia appare sempre più isolata, Mosca non arretra, l'operazione speciale va avanti. Vittorio Ferra scrive nel suo richiamo non poteva essere diversamente la guerra in Ucraina e la tragica questione che sta nel G20 di Bali di questi giorni. D'altra parte è il primo vertice che si svolge dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La giornata di ieri comincia con il videocollegamento del presidente Volodymyr Zelensky che da Kiev chiede una pace sostanziale. E poi l'analisi di Giuseppe Alberto Falci, Melonia Biden sicuri dell'atlantismo, c'è un vecchio adagio che ripetono sempre i parlamentari esperti, un conto è vincere le elezioni, un altro è governare. Ne sanno qualcosa i 5 stelle e i leghisti che nel 2018 ai tempi dell'esecutivo giallo-verde, ai tempi appunto dell'esecutivo giallo-verde. Poi porti lo Stato senza strategie, benvengano le imprese private e la sfida della logistica, scrive Ercole in calza. E quindi era questa la nostra ultima notizia della rassegna stampa odierna. Noi vi ringraziamo per aver prestato la vostra attenzione e vi rimandiamo alla rassegna stampa di domani. Buona giornata.